Vecchi elettrodomestici, mobilio di vario genere, piastrelle, materiale edilizio e infine grandi blocchi di polistirolo in stato di disgregazione. È lo scenario che si sono trovati davanti agli occhi i militari della Guardia Costiera, appartenenti al nucleo operativo di Polizia Ambientale della Capitaneria di Porto di Pesaro, nel corso di un'attività di verifica svolta lungo il fiume Foglia e finalizzata ad accertare eventuali violazioni di norme per la tutela delle acque e la gestione dei rifiuti. I militari hanno rinvenuto diversi accumuli di rifiuti all'interno di un'area ubicata in parte nel territorio del comune di Pesaro e in parte in quello di Montelabate, in località chiusa di Ginestreto. Da un primo esame, l'ingente quantità di rifiuti e materiale ritrovato sarebbe stato abbandonato a breve distanza dalle acque del fiume Foglia. La zona di deposito, un terreno di circa 8.000 m2, è stata posta sotto sequestro. Le indagini, tuttora in corso per accertare le responsabilità dell'abbandono degli oggetti, si stanno svolgendo sotto lo stretto coordinamento dell'autorità giudiziaria del Tribunale di Pesaro. E al momento le ipotesi di reato sono tutte riconducibili all'abbandono e al deposito in modo incontrollato di rifiuti. I controlli della Polizia Marittima a tutela dell'ambiente continueranno anche nelle prossime settimane, lungo il litorale ma anche nell'entroterra in prossimità dei corsi d'acqua. Nella consapevolezza che i rifiuti abbandonati a terra e lungo i fiumi possono confluire in mare con gravi ripercussioni per l'intero ecosistema marino.